Per Good Practice intendiamo le esperienze, le procedure o azioni più significative che sono state formalizzate in regole o piani per raggiungere gli obiettivi di welfare aziendale proposti dal management. Sono importanti per condividere e divulgare tutte le informazioni utili e le soluzioni da adottare al proprio contesto locale e alle esigenze aziendali interne. Per due ragioni fondamentali. La prima è quella di creare un database per la raccolta di dati di piccole e medie imprese sul fronte di welfare aziendale. La seconda è quella di divulgare queste informazioni a terzi per conoscere i contenuti, gli scopi, la copertura di tali servizi e gli organi preposti per la loro gestione anche proposta. Speriamo che con questo lavoro le informazioni raccolte siano importanti per i ricercatori ma anche per aziende e per un pubblico più vasto. Buona lettura! Grazie a tutti!